Io spero che apprezzate ancora questa tipologia di live, raga CHE PALLE! BASTA CRISTO! Ancora! Madonna, ma dove cazzo ce l'ho la mira? La cecante! La cecante! Un tizio mi ha detto Gavo, prova a fare tipo con ogni arma Prova a vincere un tutti contro tutti Ah, ah, appena sponato! Però, lasciate che state ridendo di me Lasciate io e vi faccio questo Buongiorno! 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 Oggi sono qua Signori, signori miei Di nuovo su Call of Duty Però sono da solo Ed è un po' che non mi porto in tutti contro tutti da solo Però siamo su Skyjacket È la prima volta che gioco su Skyjacket in tutti contro tutti raga Quindi sono carico Ma sono qui per farmi consigliare sotto da voi ragazzi Davvero veramente importante Voglio almeno 2000 commenti sotto questo video Fammi consigliare da voi ragazzi Quale altra serie su quello che ho avuto in solo portarvi ragazzi Perché comunque assieme a Lama, Ron e Velox Stiamo facendo un bel quartetto Stiamo organizzando davvero tantissimi video da fare insieme Andatevi a vedere della collina che sono micidiali Soprattutto andatevi a vedere anche altri video che abbiamo fatto Come il roto nuclear ad esempio Allora qua userò questa mappa qua E consigliatemi raga adesso sono qua che mi devo concentrare assolutamente Dobbiamo vincere raga Ok il primo andato Abbiamo i punti arma doppi eh Quindi potete capire in quale periodo sto giocando Praticamente appena uscito Il DLC Da una settimanella Carico raga Qua 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 Spero di non avere un altro con Silenzio di tomba Ovviamente io tento la mob eh Se tento il nucleare Chiamo sempre mob raga perché Che cazzo Dai no però saltare così Raga anch'io voglio lo scuf O il born Come cazzo si chiama Cassarola Beccalo ciapo Aia Merdone Dai sono pieno Circondato raga Circondato Circondatissimo Ciao raga vi saluto tutti Adesso non posso però Sono concentrato 1-4 Non va mica bene C'è praticamente Ho ucciso solamente Quello livello 17 Nessun altro Ovviamente Ok Ah madonna mia Dove cazzo si è dato fuori Quello raga Dai cazzo Ma quello che c'era dietro di lui Perché non l'ha ucciso Questo qua Ma perché non arrivano i colpi subito Raga Ma what the fuck Dai 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 Gabby square Vai bomber Io spero che apprezzate ancora Questa tipologia di live Raga perché comunque Un po' che non li faccio Ok abbastanza Dai Che palle Quando io miro uno E mi sparano E mi ammazzano L'odio raga Raga niente Non riesco a giocare Basta Cristo Ancora Va a cagare Dove cazzo sono Dove Ma dove siete tutti Basta Morite Che palle Con le stordenti Tutti qua nascono Raga Tutti qua Mori Cristo santo Tutti ho beccato in testa Mi gira la testa raga No vabbè dai raga Ma chi è che usa le stordenti Mamma mia Niente Niente raga Niente Non Non ci siamo oggi Quest'oggi Non ci siamo per niente Dai Cazzo Madonna Ma dove cazzo sono la mira Questa l'avevo appena ucciso Dove cazzo vengono raga Non riesco a capirlo Via 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 Dai entra Cazzo ricarica gabbo Ma sei scemo Madonna Santissima Ma perché quando salto io Non la Loro mi ammazzano sempre Dove 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 Via 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 Ok Do state Merde Madonna via Corri gabbo Dove siete Madonna ragazzi 17 19 Ragazzi la faccio a vincere Madonna mia in tre erano Eravamo in tre Tutti quelli li ha fatti fuori Oddio che doppia Raga Raga Devo recuperare mo No raga ma come cazzo ha fatto Dai suca no perché ho corso perché corro cristo il dio ma fa culo no vabbè dai io se cosa non le sopporto queste cose non le sopporto chi era? era mio quello la bastardo mamma mia oddio la cecante la cecante ma come sei messo non ci credo non ci credo ragazzi 26 27 oddio dai ma li sono tenati in testa ma che cazzo ma il danno ragazzi il danno mamma mia qua anche troppo di danno mi hanno fatto 29 ricarica gabbo fa cazzate 29 29 mamma mia ce l'ho fatta vincere non ci credo oddio 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 oh mio dio è andata malissimo qua e raga malissimo malissimo ne va a fare un'altra assolutamente raga mi sono messo un'arma che sicuramente adesso dirò gabbo ma che cazzo fai non è lo sciva eh avrei dovuto toglierlo lo sciva ma non l'ho fatto in tempo sono le chimbo proviamoci ok uno è andato raga ok vai 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 ricarica ricarica vai gabbo vai gabbo che fare il pezzo a tutti quanti tutti quanti gli fare il pezzo eh di buono non l'ho neanche preso minchia comunque che con lo sciva raga si comanda eh assolutamente guarda come si comanda con lo sciva se stai qua raga si comanda manetta eh guardalo gabbi square con un'arma che neanche volevo usare dai cazzo era mio quello la bastardone oh se girate mi ha ucciso che grande qua di qua di qua di qua qua di qua di qua di qua ok morto è stecchito morto è stecchito da lontano raga fanno cagare infatti si gira mi ammazza no madonna mia sto qua livello 203 mi sta a fa venire nervoso eh oh oh appena sponato stai cane eh zio calmo tutte e due i miei stronzi no quello era la mia raga santo dio adesso mi arriva da lato guarda dov'è dov'è cazzo guardalo come si nasconde la merda oh oh raga avete visto madonna santissima sant'arma madonna appena in tempo l'ho ucciso raga se non riuscivo ad uccidere lo riuscivo troppo comunque devono sistemare l'ispone sta mappa qua raga perché adesso mi metto qua guarda che macello che faccio ok lo sciva raga è troppo forte imparate ad usare quest'arma raga conquisterete il mondo magari non in tutti contro tutti però comunque dai cazzo santo dio madonna mia sto webzei mi ha rotto il cazzo eh fatemi uscire da qua cagare va eh da lontano raga è difficile quest'arma però da qua si può far culo ma viene emico in arrivo su ok madonna santa mi ha visto bastardo dai raga dai 21 17 calma che si fa tutto ok io devo imparare a sparare mentre salto ma è difficile non avere se non si ha lo scaff comunque il joystick tarocco adesso raga prova a chiedere a qualche a qualche o scaff o born mi sembra che ci siano se se hanno dei joystick da dare a gabby square da farvi anche conoscere vai 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 che si conquire the world ok vai gabbo grande livello 81 signori ci abbiamo conquistato il mondo signori ci abbiamo conquistato tutto qua e ci siamo rifatti da prima non si scherza con gabbo di square signori non si scherza non si scherza quasi quad in web in killcam signori quasi quasi signori ovviamente io vi invito a lasciare tantissimi like iscrivetevi e mi raccomando fatemi sapere qua sotto una serie gabbo fai questa a me un tizio mi ha detto gabbo prova a fare tipo con ogni arma prova a vincere un tutti contro tutti adesso mi sembra abbastanza esagerato però adesso che state ridendo di me adesso vi faccio questo stavo dicendo prova a vincere un tutti contro tutti con ogni arma nel gioco sarà finché non vinci non cambi arma quindi ragazzi potrebbe essere anche una serie da fare non so se qualcuno l'ha mai fatto fatemi sapere ragazzi qua sotto nei commenti vi invito a lasciare tantissimi like tantissimi commenti io sono gabbo di square iscrivetevi io vi saluto ragazzi bella raga ciao 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 La 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 la